Brianzacque, Comoacque e l'Ariore di Holding insieme in un progetto di ricerca e condivisione tra territori per rendere più efficiente e migliorare la gestione del servizio. L'iniziativa si è concretizzata tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 e vede collaborare i gestori del servizio idrico integrato nelle rispettive province di Monza, Brianzacomo e Lecco con l'obiettivo comune di avviare una collaborazione volta all'identificazione di sinergie istituzionali e industriali. Il risultato di questo efficientamento sarà una maggior disponibilità di risorse da destinare ai necessari investimenti su reti e impianti. La collaborazione già in essere tra Monza e Lecco è stata estesa a Como per tutti i tavoli già esistenti e sono stati aperti anche altri fronti tra i quali spicca quello dedicato alla gestione delle problematiche derivanti dallo smaltimento dei fanghi da depurazione. È desiderio di tutti cooperare per realizzare sinergie che possano consentirci di ottimizzare le gestioni e rendere le nostre aziende sempre più efficienti nell'erogazione del servizio ai territori, dichiara Enrico Pezzoli, presidente di Comoacqua. Nel prossimo periodo prenderanno in via i gruppi di lavoro che dovranno analizzare e approfondire le nuove possibilità di collaborazione nonché l'estensione a Como di quelli già esistenti.